il primo giorno di scuola il maestro chiama l'appello alberito alessandro in piedi come si chiama tuo padre signor maestro mio padre si chiama giuseppe e che cosa fa per vivere fa il contadino bene seduto martelli luigi in piedi come si chiama tuo padre mio padre si chiama giovanni signor maestro e che cosa fa il falegnam bene seduto manzo francesco in piedi come si chiama tuo padre mio padre si chiama vito e che cosa fa per vivere il maestro fa il calzolato bene seduto e tu rubino pierino in piedi come si chiama tuo padre mio padre si chiama nicola e che cosa fa per vivere a signor maestro fa lambatine lambatine ma lavori in città no signor maestro lavora qui in paese ma che che sappia qui in paese perché ci sono fattorie che fanno lambatine no signor maestro lavori in casa si signor maestro lavori in casa tutte le sere quando andiamo a dormire nella stessa stanza dice a babbater è tutta la luce che ne facciamo un'altra